Nel weekend i militari della compagnia di Sapri hanno effettuato un servizio coordinato teso al contrasto dei reati di larga diffusione. Nel corso delle operazioni i carabinieri della stazione di Marina di Camerota hanno tratto in arresto un cittadino di origine romena di 38 anni, residente nel comune di Camerota. Al termine degli accertamenti effettuati dai militari dell'arma, così come disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo è stato tradotto presso il carcere di Forni perché in diverse occasioni non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dall'affidamento in prova a cui risultava sottoposto. Nel corso dello stesso servizio i carabinieri della stazione di Vibonati hanno deferito a piede libero due persone per il possesso illecito di armi e munizioni. Un 59enne, originario di Santa Marina, è stato trovato in possesso di un fucile marca Franchi risultato illegalmente detenuto e un 56enne, residente a Policastro Bussentino, è stato trovato in possesso di munizionamento, anch'esso illegalmente detenuto. Inoltre i militari dell'aliquota radiomobile hanno sottoposto a fermo quattro autovetture per violazioni al codice della strada, tra cui mancata copertura assicurativa. Sono stati poi segnalati all'organo prefettizio cinque giovani per il possesso di sostanza stupefacente del tipo marihuana.